E allora ragazzi, di tutte queste grandi riforme che stiamo attuando per la nazione devono far sì che possiamo resistere a un eventuale attacco offensivo da parte dei nemici quindi dobbiamo assolutamente riformare l'esercito e diminuire le azioni con la Mongolia dobbiamo le battleship perfetto, manca uno di artiglieria e qui e l'altra è la panteria che serve giù e abbiamo completato e allora tiria perché non può scendere e te vai qui perfetto saliamo a nord ok, anche l'armada Edo, ragazzi tutte le armate sono a completo stiamo placando i ribelli stiamo cercando una specie di equilibrio e tutto anche in Corea perché per mantenere questo flashpoint basso che è quasi al 95% vediamo vediamo se riusciamo a sedarli spostando le truppe non so se funzionerà comunque è altissimo solo la condizione non so se funziona piuttano Quali sono le navi? Sono 95. Dovebbe esserci altre navi? Un'unità che serve per arrivare a venti unità navali, per ascolto. Ok. 900. Eccoli qui, ancora con l'impostruzione. Vai che gli anarcoliperali scendono, ovviamente c'è più tranquillità. Mi do paura che interverrà chiunque, se attaccherò la Mongolia. Come vedete l'Unione Sovietica è rientrato al posto della Svezia. Ma cerchiamo di migliorare le relazioni a sto punto. Anche se è un intervento militare in Cina. Un po' contro o meno King Kai. E ce l'ho proprio qua ragazzi, qua. Qua in C pure. Spandermi appunto in Cina. Per me manca pochissimo. Forse il Flashcoin sta scendendo lievemente. I conservatori ragazzi hanno preso il potere. Una coalizione di conservatori ha preso il potere. Quindi noi non possiamo fare lo stesso niente. Ma però possiamo almeno gestire la sezione dei sussidi alle fabbriche. Per me abbastanza. Ragazzi dobbiamo sfruttare appieno il potenziale bellico. Quindi andrò subito a produrre una nuova armata. Quindi spettiamo le terre straniere. quindi Mugden. Tan Ton. Chia Zhu. Shao Zhu. Shao Ging. Tutta la cavalleria ce l'abbiamo lì. Ingegnere ha Jin Han. artiglia da Ozu, Paiyan, Da, Ming, poi dobbiamo per forza obbligatoriamente spostarci in Giappone, Tsubui, Urawa e Guardia, Urawa, Osaka, Nara, Nagasaki, Kumamoto, il resto lo facciamo sempre in Cina, da Ming, Paiyan, Zhao Yu, sono, non si legge, ne faccio un altro, vai, non so neanche a che punto siamo, quindi a 30 tonne, va bene così, un po' se l'ho fatto un impugno ragazzi. Cara Austria, faccio prima selezionare l'obbligatoriamente, vengo opinione, qua mi scende ragazzi, però è troppo, comunque troppo up, con un limite di 25, perché siamo al doppio, le guerre ci sono al momento, le persone inglese, guerra americana cocanti, le luci cocante, dove dovrebbero arrivare gli americani, mi sembra un po' azzardata come manovra, io inizio a formentare il mio Tato Sudelli, a tutti ci stato, nei confronti di Guangxi, anche perché la prossima armata che sto per produrre, la manderò giustamente a lì, in base in genera bassa. Andiamo a incrementare le basi navali sul territorio giapponese, livello 5, almeno abbiamo qui il potenziale navale a disposizione, anche l'inventorio coreano, va bene così, non ci sono possibilità di fare riforme, abbiamo però un po' di bulli da spendere, andiamo a migliorare alcune le elezioni con gli americani, veramente con l'Unione Sovietica, presi i bassi e infine con la Germania, abbiamo ottime relazioni. la campeità, io mi sa che è intervenuta, la polizia di Stato, Romania, oppure la Romania, aggiungi alla sfera, il primo Stato europeo a essere assecondato da una, a rientrare dentro una sfera politica di uno Stato asiatico. Quindi vediamo se possiamo aiutarlo economicamente, in Romania o l'Europa? No? Non posso? Salino? 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 Sì, sì, sì Sì, sì, sì Questa coalizione ragazzi è bruttissima Come Austria Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Metà dell'armata vi trovo in Cina Sì, sì Teniamo queste forze Cerchiamo di non perdere caso su belli Di chiara guerra Fino a quando ce l'abbiamo Ok, dai un annetto circa, quindi teniamolo sotto l'occhio Ok, mancano soltanto due di infanteria che sono qui Sì, sono già a casa, sono 15.000 uomini, non ne abbiamo esattamente 42, ne manca una sott'anno Perfetto, l'armata canton, perfetto, l'armata canton Ce l'abbiamo, bella che pronta finalmente, se lo meritano, la maggior parte di loro viene da quei posti. Ragazzi siamo quindi in classifica, abbiamo raggiunto dei traguardi in questi ultimi 6 anni di gioco e ormai ne mancano circa 5, 5-6 per cercare nuove conquiste, nuovi punteggi. E mantenere un certo equilibrio nel mondo. Abbiamo ottenuto addirittura potere in Europa, aggiungendo nella nostra sfera la Romania, quindi un territorio nel cuore dell'Europa dell'Est, tra virgolette fantoccio o comunque gestrato dalle politiche di uno stato asiatico. Per questo video ragazzi è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, su questa bellissima serie Ormai Psicoccioli. Bye bye! Ciao! 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 Ciao!